Con un mese di settembre che ha sfiorato il 90% dei posti letti occupati nell'Aretino con un più 11% dallo scorso anno e un ottobre comunque con dati molto buoni, il turismo ad Arezzo si appresta ad andare in overbooking nel periodo natalizio. Con un mese di anticipo per il ponte dell'8 dicembre, giorno dell'Immacolata e primo grande ponte festivo di questo inverno, i posti letto nel circuito hotel dell'Aretino sono già occupati, oltre il 75%, ottime le previsioni anche per novembre. Il ponte dell'Immacolata, quello dell'8 dicembre, abbiamo già ad oggi sul venduto, quindi sul confermato, un tasso di occupazione che va dal 75% al 90%, il che significa che, essendo un mese prima, si può facilmente stimare di arrivare probabilmente a un overbooking e quindi a spargere prenotazioni nel giro di 40 km. Ma va comunque benino anche in tutti gli altri fine settimana da novembre in poi, da non dimenticare che a novembre c'è anche il Forum Risk, che è un appuntamento estremamente importante e quindi tutta quella settimana lì sarà contrassegnata dal tutto esaurito. Un tasso di occupazione particolarmente elevato, rilevato proprio nelle città d'arte e tra queste appunto Arezzo. Una città che comunque si sta abituando piano piano a questo tipo di flussi turistici, rimane il tarlo della mancanza, ad esempio, dei bagni pubblici. Sì, il problema dei bagni pubblici, almeno per come è percepito nella gravità del problema, è solo a retino. In realtà io ho girato molte parti del mondo e i bagni sono sempre andati negli ristoranti, negli e-bag, nelle stazioni. Ad Arezzo i bagni pubblici ci sono, certo non si può fare un bagno per ogni turista, quindi sì, è chiaro che poi è evidente che là dove ci sono dei momenti di picchi di folla, il bagno ci può essere la fila. Però io non la metterei così drammatica come viene rappresentata, mi sembra che ci sia una narrazione leggermente esagerata sul tema. Sicuramente quando sono previste tante persone che si espostano in un determinato territorio, peraltro non enorme, è chiaro che parcheggi, viabilità, ritiro dei rifiuti, bisogna capire tutto quello che sono le necessità di un folto numero di persone che si aggirano alla fine in un quadranto abbastanza ristretto che è quello del centro storico di Arezzo. Il numero di persone non è tale da poter lanciare nessun tipo di allarme, anche perché comunque si tratta di picchi che sono per pochissimi giorni l'anno, quindi speriamo che vada tutto bene. Poi tutto il perfettibile, ovviamente come tutte le azioni umane, sono tutte perfettibili e possono essere aumentate.